Si chiama Integriamo il futuro ed è un calendario realizzato e promosso dall'assessorato alle politiche sociali della provincia di Agrigento. La finalità è quella di dimostrare che in questo territorio la mescolanza di culture ed etnie non è un problema ma una risorsa. È un'iniziativa simbolica ma che diventa concreta nel momento in cui sarà utilizzato quotidianamente dalla comunità agrigentina e dalla comunità araba perché abbiamo messo in questo calendario la volontà di testimonianza della mescolanza di razze che è già avvenuta nella nostra provincia di Agrigento. Quindi delle foto sintomatiche di extracomunitari che già si sono integrati sul territorio. Quindi un rispetto anche per le loro festività religiose mettendo per esempio il loro capodanno che inizia il 18 gennaio. Insomma tutta una serie di elementi scritti in lingua italiana e in lingua araba che diano ai nostri fratelli che vengono dal Maghreb il senso della possibilità di poter utilizzare quotidianamente questo strumento che segna l'integrazione. Oggi si parla tanto di globalizzazione, di un mondo multiettico. Noi partiamo dalla glocalizzazione per creare le condizioni di globalizzazione. Allora riteniamo che tutte le persone siamo uguali anche se con razze diverse, con religioni diverse. Agrigento è uno dei luoghi italiani nei quali l'integrazione è, insomma, nonostante le condizioni difficili del territorio è in una fase più avanzata che in altri posti. Voleva darci un saluto.